Ora, ragazzi, ora, ecco, la Changeside con il fucile. Chissà quanti colpi giganti spareremo. Due ore di registrazioni, madonna, cioè. Madonna, cioè, dividerò questo episodio, non so quante parti. Voi vedrò quando monterò il video, che ci vorranno un sacco di tempo. Voi credete, credete che io, che io sto registrando tutto questo bello così, così, tutto è bello? Io sto registrando da due ore! Due ore per trovare il cimitero, per, 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 per fare questa Changeside, per diventare una formica, madonna! Nel frattempo che stavo parlando, mi sono distratto e ho lanciato il fucile. Mi sono bugato. Mi sono bugato! Sentite, ragazzi, io mi sto veramente scocciando di resettare il gioco ogni volta, ma c'è un modo per salvare la partita? Allora, c'è un modo per riuscire... No, allora, voi, ora mi dovete dire sotto i commenti, come cazzo faccio a tornare indietro quando sbaglio? Che non ce la faccio più, c'è, da due ore sto resettando il gioco! Adesso proviamo gli esplosivi enormi! Forza! Adesso siamo pronti? E uno? Dove cazzo è finito? Ma perché sto gioco è bugato? Allora, io lo capisco questo gioco... Ah, eccoli qua! Io lo capisco, questo gioco è ancora in fase di sviluppamento, quindi alcune cose sono bugate... Ma la mia versione di gioco è completamente bugata! C'è, quando lancio un coso, scomparre nel nulla! Vabbè, pure il gioco è lagga! Meoddio, quando lagga! C'è, quando faccio esplodere questi esplosivi, mi lagga tantissimo il gioco! Adesso... Proviamo una... Volevo vedere com'era il mio personaggio... Madonna, c'è il gigantesco! Ma quanto cazzo è grande questa mappa! Venga c'è, raga! Cosa vuol dire Restart Level? Guarda... Allora, stavo provando a scrivere alcune cose, ho trovato una scritta Restart Level... Posso resettare il livello? Aspettate! Io da due ore ho resettato il gioco chiudendolo... Te morisse il cugino! Ma non so quante volte sto resettando sto gioco! Cosa significa Restart Level? Che lo posso resettare! Cosa vuol dire chiudere il gioco? Quindi è da due ore che sto chiudendo il gioco per niente? Te morisse il cugino! Ora, raga, facciamo esplodere questo esplosivo... E vediamo un po' che cosa succederà, mi piace... Cioè, mica esplode davvero la casa del vicino! Raga, siamo pronti? Siamo pronti a far esplodere il mio esplosivo! E poi c'è una volta che sarà uscito il gioco completo 2017... Ovvero a giugno... Devono a meno completare queste versioni di Halloween... Tipo, devono aggiungere il terzo piano, il quarto e il quinto piano... Dell'Alfa 1 di Halloween... Poi devono aggiungere anche gli altri nella demo dell'Alfa 1... E devono completare il labirinto sotto! Che cazzo è successo? E devono sbloccare le mappe... Se no, cosa li hanno fatti a fare? Cosa hanno creato a fare gli altri piani se poi non li sbloccano? Che hanno creato a fare la cantina se poi non la completano? Capito? E' questo! Quindi li devono per forza completare tutti quanti i giochi... Quando uscirà a giugno quello completo! Ma perché mi si paga sempre giù? Dovete andare sulla casa del mio vicino, non sulla mia casa! Ragazzi, allora... Sto coso cade sotto... A posto che finire nella scatola, rimpazza via! Mi spiegate perché i guateri sono giganteschi? Oddio! Oddio! Mi spiegata! Dio, che sia successo! Ora accendiamo tutti questi esplosivi! Ok, bene! Bene! Facciamo esplodere gli esplosivi! Facciamo laggare il gioco! Una palla di fuoco! Parte 5, finale, ultima, coming soon!